Ma ricostruiamo l'accaduto nel servizio di Francesca Romana Testi. Un omicidio scaturito per il pagamento dell'affitto. La vittima, Monica Di Domenico, 45 anni, psicologa e proprietaria dell'appartamento, ieri pomeriggio si era arricata dal suo inquilino per riscuotere gli arretrati. Una somma che uscillerebbe tra gli 800 e i 1000 euro. Lui, Giovanni Gliacone, 48 anni, originario di Firenze e cuoco disoccupato, aperto la porta e detto di non avere i soldi richiesti. Dall'in poi si è consumato l'omicidio che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe visto Gliacone colpire con un oggetto pesante, forse un posacenere, la testa della donna, poi un rumore di vetri rotti e poi il silenzio. A dare l'allarme un vicino che, sentendo le urla della vittima, avrebbe dapprima bussato per chiedere cosa stesse succedendo e non avendo avuto risposta si sarebbe diretto a chiamare i carabinieri, intervenuti subito sul posto e riusciti ad arrestare l'uomo ancora nel palazzo. Il corpo della donna è stato ritrovato in soffitta, avvolto in un lenzuolo, a guidare i carabinieri nel ritrovamento la scia di sangue lasciata dalla porta dell'appartamento fino a sopra. La dinamica si tratta di una lite degenerata, nata tra un conduttore e un locatore di un appartamento per il pagamento dei canoni di affitto, è degenerata con questo omicidio della conduttrice, della proprietaria, che è una donna. Questo è quanto. È stata colpita, almeno nella prima ricostruzione, presenta, poi sarà l'autofusia a dirci, al capo e alla gola. È stato collaborativo al 100%, si tratta di ricostruire con domizie di particolari e anche tecnici. Lui alla fine chiaramente ha confermato di essere stato lui l'autore dell'omicidio, altro, tra l'altro erano talmente, gli elementi che avevamo comunque raccolto erano talmente lampanti, erano talmente chiari, che lui non ha fatto altro che poi confermare quello che poi era l'evidenza. Lui se l'abbiamo trovato in pratica era ancora in casa. Nella casa. Il nostro intervento è stato immediato e quindi probabilmente non avrebbero avuto nemmeno il tempo di allontanarsi da casa. Cioè il cadavere non è stato trovato dentro casa, è stato trovato in un locale diverso dall'abitazione. L'uomo ha subito collaborato con le forze dell'ordine, ma da chiarire ancora la dinamica dell'incidente. La donna infatti presentava un taglio profondo al collo, oltre alla ferita alla testa, da capire se il taglio sia stato provocato dalla caduta sul tavolo di vetro, andato così in frantumi, oppure che l'uomo abbia inferto un ulteriore colpo al corpo della psicologa. A stabilirlo sarà l'autopsia. Nella mattinata intanto gli uomini del RIS si sono recati nell'appartamento di Via Monte Sirente a Francavilla per i rilevamenti e la ricostruzione della dinamica insieme ad avvocato della difesa. Il primo interrogatorio, subito dopo l'arresto, è durato quattro ore e finito a tarda notte. Il mio assistito si è dimostrato sin da subito molto collaborativo, un evento drammatico e conseguentemente ha sin da subito manifestato anche rammarico, uno stato di confusione. Ciò nonostante ha fornito una versione dei fatti credibile e si deve accertare ovviamente quanto dallo stesso riferito e soprattutto la volontarietà dell'evento che al momento non sembra così scontata. Siamo in attesa di conoscere gli accertamenti, di conoscere l'esito degli accertamenti dispositi dal procuratore che sono già iniziati e poi all'esito degli indemedesimi verificheremo insomma quale sarà la strategia opportuna. Io sono in attesa di conoscere la data dell'udienza di convalida che ci sarà entro a brevissimo e il mio assistito è stato tratto in arresto quindi all'esito della convalida poi si valuterà se adottare una misura cautelare oppure no. Finirà davanti al giudice del Tribunale monocratico di Pescara il caso riguardante le pratiche di adozione di Maxime, il bimbo russo di 5 anni ucciso nel sonno la notte tra il 17 ed il 18 luglio 2014 a Pescara dal padre adottivo Massimo Maravalle, tecnico informatico affetto da disturbo psicotico atipico. Il GUP Antonella Di Carlo questa mattina ha infatti rinviato a giudizio la madre adottiva di Maxime, Patrizia Silvestri, il medico del servizio di medicina legale del lavoro della ASL di Pescara Giuliani Aiacchini ed il medico di base Fabio Pansieri. Il processo davanti al giudice monocratico Laura D'Arcangelo avrà inizio il 4 aprile prossimo. I tre imputati accusati di falso in concorso erano già stati rinviati a giudizio il 9 febbraio scorso dal GUP Nicola Colantonio davanti alla Corte d'Assise di Chieti la quale però lo scorso 27 aprile ha stabilito che la competenza spetta al giudice monocratico facendo così ripartire da capo il procedimento. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Buono il bilancio di fine anno stilato dal prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi. Nel 2016 in provincia i reati sono generalmente diminuiti anche se il territorio soffre di una criminalità di transito. Inoltre l'immigrazione aumenta del 6% e Teramo diventa la prima provincia in Abruzzo per presenza di popolazione straniera regolare, praticamente triplicata il servizio di Tania Bonnici Castelli. Bilancio di fine anno del prefetto di Teramo, Graziella Patrizzi, sui risultati ottenuti dalla sicurezza effettuata dalle forze dell'ordine e coordinata dalla prefettura sul territorio terramano. Il primo dato riguarda i reati che nel 2016 in provincia scendono complessivamente di qualche punto in percentuale grazie al rafforzato controllo su criminalità e terrorismo. Per il prefetto Patrizzi il successo nel contrasto al crimine è dovuto alla stretta sinergia tra sindaci, polizie locali e privati. Dottoressa, il principio al quale lei si è ispirata in questo semestre è stato quello della sicurezza partecipata. La sicurezza partecipata è l'unico modo per riuscire a garantire risultati soddisfacenti per la collettività. L'attività sinergica di diversi livelli di governo a cui può contribuire anche l'attività dei privati come gli istituti di vigilanza può riuscire a garantire livelli accettabili di sicurezza alla collettività. C'è un elemento poi che caratterizza la provincia di Teramo quello della criminalità di transito. Ci sono le bande di transito dalle regioni vicine in particolare dalla Puglia, dalla Campania, dal Lazio ovviamente Teramo è in una situazione baricentrica c'è un'ottima viabilità e conseguentemente soffre di questa diciamo handicap tra virgolette nel senso che può avere delle ripercussioni sicuramente per quanto riguarda una criminalità che non è radicata sul territorio ma che proviene dall'esterno, fa delle battute e poi va via. Teramo ha anche un primato, il primato della popolazione straniera? Della popolazione straniera io ho parlato però di popolazione regolare quindi non stiamo parlando dei richiedenti asilo ho fatto la distinzione come stranieri residenti regolari sicuramente Teramo e poi c'è Pescara l'Aquila e Chieti in minor misura per quanto riguarda l'accoglienza il discorso è diverso abbiamo 850 richiedenti asilo sul territorio provinciale divisi in 23 strutture e io ho detto alcuni di questi in ben otto comuni stanno percorrendo un percorso di integrazione che sicuramente li aiuterà ad integrarsi meglio nel territorio. Andiamo avanti, parliamo di Legionella valori alterati di bassa entità circa la presenza proprio di Legionella sono stati evidenziati nel corso di verifiche sull'impianto idrico dell'ospedale di Vasto lo comunica la ASL Lanciano Vasto Chieti rendendo noto che sono stati effettuati 12 campionamenti in 6 dei quali è stata riscontrata la presenza in quantità modeste del microorganismo che come noto prolifera e si concentra in impianti idrici dove c'è ristagno con temperature tra 32 e 45 gradi ragione che ne spiega la presenza in alcuni rubinetti di bagni poco utilizzati anche se si tratta comunque di una condizione che non desta preoccupazioni sono state adottate tutte le misure del caso. La sospensione delle attività dell'accordo in seguito all'indagine della finanza rischia di far saltare l'accordo per il reinserimento dei lavoratori disoccupati dell'ex polo elettronico vediamo il servizio di Germana Dorazio C'è il rischio che saltino i 130 posti di lavoro assicurati dall'Accord Fenix i dipendenti dell'ex polo elettronico infatti sono da mesi ormai senza ammortizzatori sociali a sottolineare la grave situazione dell'azienda che a sede all'Aquila anche alla luce del sequestro operato di recente dalla magistratura e dalla nuova perquisizione della finanza sono il segretario della CISL della provincia dell'Aquila Paolo San Germano e il coordinatore FIM provinciale Gian Paolo Biondi che avvertono apprendiamo che vertici aziendali tramite legali di riferimento hanno chiesto la revoca della misura pur ammettendo alcuni errori procedurali dovuti alla complessità della legislazione in materia di smaltimento dei rifiuti ma il timore, dicono i sindacalisti che lo stop imposto dal sequestro dello stabilimento nel quale al momento operano solo 23 lavoratori di cui 11 provenienti dall'ex polo elettronico e 12 neoassunti possa far sfumare l'intera operazione concordata con le organizzazioni sindacali la Corfenix, sottolineano i due sindacalisti a gennaio avrebbe dovuto dare il via al piano di riassunzioni che prevedeva il reintegro entro giugno di 60 lavoratori per arrivare gradualmente nel prossimo biennio a coprire la pianta organica con 129 assunzioni se dovesse saltare l'intera operazione annunciano i sindacalisti per le maestranze dell'ex polo elettronico che da circa un anno non percepiscono alcun sussidio non ci sarebbe possibilità di reinserimento nel ciclo produttivo la CISL rivolge così un appello alla Regione che, a fine dicembre avrebbe dovuto riunire un tavolo di concertazione con l'azienda e i sindacati al momento, concludono i sindacalisti non abbiamo notizie sollecitiamo la Regione ad attivare un confronto immediato sulle sorti dell'azienda e dei lavoratori visto che a marzo prossimo scadranno anche le ultime mobilità Andiamo ancora avanti continua la protesta delle associazioni dei consumatori per gli aumenti dei pedaggi autostradali in particolare sotto la lente di ingrandimento ci sono gli aumenti sull'autostrada dei parchi a 24, a 25 vediamo il servizio Gennaio 2017 come per gli altri anni arriva puntuale l'aumento del pedaggio autostradale Teramo-L'Aquila-Roma e credo una delle rare se non l'unico tratto autostradale dove il pedaggio costa più del carburante non lo possiamo più sopportare una situazione di questo genere atteso anche il fatto che molte persone, tantissime persone da Teramo si spostano giornalmente per andare all'Aquila a lavorare e viceversa e questa è una situazione sulla quale bisogna mettere mano visto anche quello che abbiamo alle nostre spalle cioè una manutenzione scadente un pericolo costante i pochi abitanti che sono rimasti qui a Casale San Nicola una frazione di Isola del Gran Zasso lamentano la caduta di pezzi di ghiaccio e di calcinacci No, no, no questo è un pezzo di cemento sì, sì, è sicuro questo è un gran titolo ho visto io li vedono le persone li vedono tutti quanti quindi è reale e posso dire un pezzo andò a finire dietro la schiena di mia suocera io chiamai l'autostrada dei parchi laggiù e mi disse noi siamo assicurati mandate il referto medico e è una risposta a cavolo quindi è una situazione di pericolo costante che non la possiamo avvicinare neanche minimamente al costo e quindi all'aumento spudorato del costo del pedaggio autostradale non può essere che uno che parte da Piazza Caribaldi per arrivare all'Aquila andare a lavorare paghi 12 euro al giorno 12 euro al giorno di autostrada cosa deve portare a casa questo signore in che modo darà da mangiare ai suoi figli quindi dobbiamo affrontarlo questo argomento signor Presidente della Regione e signori prefetti perché è una situazione che è diventata onestamente insostenibile proroga della sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole di Chieti di ogni ordine grado degli asili nido per i giorni di domani e sabato 14 gennaio la disposta con ordinanza il sindaco di Chieti Umberto Di Primio sentiti anche l'ufficio tecnico comunale l'ufficio pubblica istruzione e i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi il primo cittadino spiega che le ditte incaricate del Piano Neve il personale comunale e gli operatori di Formula Ambiente in questi giorni stanno infatti effettuando i lavori per garantire l'accesso ai plessi scolastici sia comunali che provinciali e parliamo ancora di maltempo perché il sindaco di Roseto Sabatino di Girolamo ha disposto la chiusura dell'asilo nido comunale di via a Colle a causa di una rottura della caldaia dovuta al gelo non risolvibile nell'immediato pertanto onde evitare di lasciare in difficoltà le famiglie dei bambini di concerto con la cooperativa I Girasoli che gestisce il nido si è deciso così di spostare il servizio comunale nell'asilo nido Mariele Ventre fino a quando il riscaldamento dell'edificio di via a Colle non sarà perfettamente funzionante quindi i genitori dei bambini iscritti nell'asilo nido comunale della Colle potranno portare i propri figli nella struttura Mariele Ventre dove saranno seguiti dalle proprie educatrici e noi torniamo a Pescara perché il 12 gennaio del 1927 veniva sancita la fusione fra Castellammare e Pescara oggi a 90 anni da quello storico evento si celebra a Pescara un consiglio comunale solenne vediamo Presidente Blasioli quella di oggi è una giornata storica per Pescara 90 anni fa il 12 gennaio di 90 anni fa ci fu l'unione tra Pescara e Castellammare poi nacque la provincia di Pescara si l'unificazione è proprio data 12 gennaio del 1927 il reggio decreto fu firmato il 2 di gennaio e poi pubblicato sulla gazzetta ufficiale l'11 quindi oggi è il primo giorno di entrata in vigore proprio 90 anni fa una storia quindi moderna ma anche millenaria perché questi territori insomma li conosciamo già all'epoca romana come porti di Roma sull'Adriatico è tuttavia una storia abbastanza complessa quella tra Pescara e Castellammare e la stessa unificazione tra Pescara e Castellammare non fu vissuta nello stesso modo anche dai massimi rappresentanti dei due comuni il commissario dell'Anderset per esempio il commissario di Castellammare proprio dopo aver saputo di questa unificazione a dicembre del 1926 scriveva a Mussolini dicendo giubilo per la nascita di questa unificazione tra Pescara e Castellammare ma sostanzialmente le chiedo Presidente di fare in modo che al nome di Pescara possa seguire anche quello di Castellammare e questo perché perché dal 1863 dalla nascita della ferrovia e quindi dai primi ordini del giorno e raccomandazioni votati da entrambi i comuni Castellammare e Pescara si tendeva a una unificazione che fosse florida soprattutto sul bacino dell'Adriatico ma che portasse un nome che è quella di Aterno e non quella di Pescara e di Castellammare e i castellammaresi vissero il reggio decreto che entrò in vigore appunto il 12 gennaio del 1927 come una vera e propria annessione di Castellammare a Pescara però poi le ragioni economiche del profitto turistico e anche la possibilità di avere un porto unico completo tra Pescara e Castellammare così recitava uno degli atti portati in consiglio comunale fece in modo che queste polemiche piano piano svanirono e si guardò invece di più all'ambizione di rappresentare il terzo grande polo sull'Adriatico tra Ancone e Bari restiamo ancora a Pescara perché il Tar con una sentenza ha ribadito che lo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia è sottoposto a vincolo architettonico esultano le associazioni ambientaliste anche se il comune di Pescara e la società Bianca Azzurra guardano ad un nuovo stadio vediamo De Santis il Tar ha confermato che lo stadio Adriatico è sottoposto a vincolo dando ragione alla saprintendenza un fatto che voi avevate già più volte sottolineato e che alla fine dunque in un certo senso vi dà anche ragione beh intanto bisogna essere fieri perché Pescara acquisisce un nuovo bene culturale di interesse nazionale lo stadio Adriatico Cornacchia adesso è a tutti gli effetti un bene culturale c'è da dire che bisogna festeggiare bisognava già allora festeggiare ed è incredibile che il comune invece di applaudire a questa scelta da sovrintendenza e andarne orgogliosi addirittura abbia fatto ricorso al TAR per cercare di annullare questo vincolo questa struttura di cemento armato e perché uno dice il cemento armato in realtà ha un pregio architettonico importante è fatto da Piccinato il progetto dal 1955 e ricalca anche altri stati di livello internazionale di allora e ha delle peculiarità addirittura a livello appunto anche internazionale quindi è adesso un bene culturale deve essere tutelato gestito fatto conoscere anche la cittadinanza pescaresi di questo pregio addirittura vinse un concorso internazionale di architettura nel 1961 quindi lo Stato deve essere visto anche da questo punto di vista e certo non si può trasformarlo in un grande centro commerciale come qualcuno vorrebbe fare al comune di Pescara bisogna appunto portarci anche le persone a farlo conoscere da questo punto di vista non solo al mondo sportivo è chiaro che poi la sua intendenza dice se si deve fare dei lavori di adeguamento un po' per migliorarlo così senza toccare le strutture vincolate si può fare ma non certo una trasformazione in un centro commerciale come abbiamo visto e ci spostiamo a Teramo che vanta una grande tradizione nell'ambito della medicina veterinaria un'eccellenza che dura dal 1700 la storia di questa specialità medica è raccontata in un volume che è stato presentato questa mattina nell'aula convegni dell'ospedale veterinario universitario di Piano Daccio la pubblicazione è stata sostenuta dalla vicepresidenza della regione Abruzzo vediamo il servizio semmai a Teramo si volesse attribuire una vocazione la si potrebbe individuare nell'eccellenza della sanità pubblica e nella sanità pubblica spicca la medicina veterinaria che nel Teramano vanta una tradizione invidiabile già dal 1700 la storia dello sviluppo di questa specialità medica è racchiusa in un volume curato da Ottavio di Stanislao e Luciana d'Annunzio dell'archivio di Stato di Teramo e che raccoglie importanti autorevoli testimonianze la pubblicazione sostenuta dal vicepresidente della regione Abruzzo Paolo Gatti è stata presentata nell'aula convegni del moderno ospedale veterinario universitario di Piano Daccio un omaggio alla medicina veterinaria di Teramo che è sempre stata un'eccellenza diciamo che sono le nostre origini la provincia di Teramo l'Abruzzo sono territori che hanno vissuto di questo hanno vissuto di agricoltura hanno vissuto di allevamento di animali veniamo tutti quanti da lì e poi dalla veterinaria del fango e delle campagne piano piano nel corso dei decenni abbiamo avuto l'istituto zoprofilattico la facoltà di veterinaria adesso questo ospedale veterinario è molto importante quindi siamo un'eccellenza l'Abruzzo e la provincia di Teramo è un'eccellenza nel campo della medicina veterinaria a cui noi dobbiamo molto e sulla quale dobbiamo continuare a investire questa pubblicazione ha a che fare con la memoria con il passato con il presente ma anche con il nostro futuro nel libro è raccontata l'evoluzione di una professione nata nel fango delle campagne e che oggi si studia alla facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Teramo tra le più prestigiose in Italia e che il Censis quest'anno ha posizionato tra le 13 migliori del nostro paese lei ha scelto di essere veterinario è adatto alla veterinaria tutta la sua vita che significa essere veterinario allora come giustamente ha detto lei prima di essere preside prima di essere un docente di clinica ostetrica sono un medico veterinario a me la professione ha dato tanto perché vengo dalla libera professione nella zona dell'Emilia Romagna e cosa significa essere veterinario significa non solo curare gli animali perché quello è il settore clinico ma significa anche pensare alla salute dell'uomo pensate che tutto quello che arriva sulle nostre tavole è controllato dai nostri servizi veterinari che sono servizi di eccellenza in ambito nazionale non voi avete questo ospedale per gli animali bellissimo cosa si fa qui? c'è un gruppo che si occupa di piccoli animali cani e gatti e facciamo dalla visita fino a interventi di chirurgia importante un'eccellenza in Italia? beh presuntuosamente direi proprio di sì e parliamo ora di moda e andiamo a Firenze per vedere le ultime tendenze in fatto di moda maschile al Pitti Uomo Pitti Uomo in numeri vuol dire 1220 marchi che si presentano al salone invernale qui alla fortezza da basso di questi 540 vengono dall'estero sono il 44% del totale e 210 sono nomi nuovi gli stand vengono allestiti su una superficie di 60.000 metri quadri tutti da esplorare per i 36.000 visitatori attesi al salone più di 24.800 sono stati i compratori dell'ultima edizione invernale di Pitti Uomo 8.800 i buyer dall'estero 35% del totale principalmente da Germania Giappone Spagna Gran Bretagna Turchia Olanda Francia Cina Svizzera Belgio Stati Uniti Corea Sud Austria Russia e Svezia Pitti Immagine Uomo edizione 91 si è aperto in un contesto economico in chiaroscuro per il settore tessile moda italiana secondo i risultati dell'indagine campionaria SMI dopo un primo trimestre del 2016 in crescita più 2,2% rispetto allo stesso periodo del 2015 il fatturato tessile moda è entrato in area negativa nel secondo trimestre cedendo mediamente il 2% il fatturato verso l'estero invece è più che soddisfacente questo Pitti è considerato un Pitti movimentato dedicato com'è alla danza l'idea di fondo è quella di un uomo agile attivo super dinamico dimmi come palli e ti dirò come ti vesti allo slogan della manifestazione declinata al maschile ciao da Pitti Uomo 91 e siamo alla pagina sportiva con ampio spazio dedicato al calcio perché nel pomeriggio si è disputata al Poggio degli Ulivi di Marina di Città Sant'Angelo un amichevole tra il Pescara ed il Teramo con la vittoria dei Biancazzurri con il risultato di 4 a 0 grazie alle reti di Caprari autore di una doppietta ai gol di Gilardino e Biraghi sul calcio di rigore ma per il Delfino non è stato un pomeriggio di festa perché ci sono stati degli infortuni tra l'altro che dovranno essere valutati nelle prossime ore infortuni occorsi a Campagnaro e Vitturini i due giocatori rischiano seriamente di saltare la trasferta di Napoli e per Massimo Oddo è piena emergenza in difesa vediamo il servizio in merito di Andrea Costantini doveva essere la giornata per vedere all'opera i nuovi Alberto Gilardino in primis ma anche l'argentino Andres Cubas e invece l'amichevole col Teramo non fa altro che far scivolare il Pescara nell'emergenza più totale in difesa nei primi 15 minuti vanno KO prima Ugo Campagnaro problema al Polpaccio e poi Davide Vitturini infortuni da valutare ma i due calciatori rischiano di saltare Napoli considerati gli stop di Bobo e Zampano per due settimane la partenza di Zuparic e la scolifica di Biraghi al momento gli unici certi nel reparto dei centrali sono Coda e Stendardo e il tecnico Oddo potrebbe essere indotto a rivedere l'ipotesi della difesa 3 ma anche in quel caso mancherebbe il quarto di difesa non è da escludere l'impiego del baby Maloku ma intanto di fronte a tanta sfortuna il presidente Sebastiani usa l'ironia conviene non giocare più tenerli veramente sotto ma purtroppo poi sembrano lo stesso settore quindi oggi sono usciti Campagnaro e Vitturini speriamo che almeno uno recuperi per domenica presidente Mattiello Castanos Augustin cosa possiamo dire? su Mattiello e Castanos siamo a buon punto solo che Mattiello pure lui doveva venire e sarebbe già dovuto venire qui e si è rotto il setto nasale evidentemente conviene non dire più chi prendiamo perché sennò facciamo del male anche ai giocatori che devono arrivare Oddo aveva provato il probabile undici antinapoli con Campagnaro coda e stendardo centrali Vitturini e Crescenzi esterni Memusciai e Cristante interni Berre e Caprari a ridosso di Girardino assente anche Brugman che domani si sottoporrà una visita specialistica a Milano e rischia anche lui uno stop contro un teramo infarcito di giovani nel primo tempo le note liete arrivano dalla doppietta di Caprari e soprattutto dal primo squillo di Alberto Girardino nella ripresa il teramo aumenta il numero dei titolari anche Oddo fa turnover dando spazio tra gli altri a Cerri e Cubas che causa mancanza del transfert salterà anche gli Napoli e arriva l'ultima rete del pomeriggio il quarto gol firmato da Cristiano Biraghi su calcio di rigore domani intanto è in programma un incontro per Augustin Sebastini però si mostra scettico sull'arrivo dell'attaccante del Paris Saint Germain Augustin? Non credo che sia il giocatore che arriverà a Pescara perché è un giocatore che il Paris Saint Germain ha molto in considerazione quando esce Cavani entra lui e difficilmente sarà un giocatore che spostano è un giocatore bravo di prospettiva però è di proprietà di un club che non ha bisogno di nulla quindi sarà difficile che si possa spostare E parliamo ancora di Pescara perché prima dell'amichevole tra i biancazzurri e i biancorossi è stato presentato alla stampa l'ultimo arrivato il ventenne argentino Andres Cubas ascoltiamolo Il mio primo obiettivo è rimanere al Pescara giocare e fare il meglio possibile per questa squadra per cercare di mantenere la categoria se poi dovessero decidere anche di riscattarmi allora rimarrò qui molto volentieri Torreira non l'ho mai visto giocare ma io sono un calciatore dinamico di grande intensità e il mio compito sarà dimostrare le mie caratteristiche qui a Pescara spero che questo le sirva molto all'equipo Berratti certo che lo conosco l'ho visto giocare in Italia prima e poi nel Paris Saint Germain è un calciatore di livello internazionale io farò di tutto per cercare di avvicinarmi a quello che ha fatto lui finora nella sua carriera non conosco molto la Serie A ma so che è un campionato difficile di grande difficoltà così come tutti i grandi campionati europei io spero di potermi adattare velocemente ai ritmi che ci sono qui in Italia e parliamo ora proprio del Teramo perché è clamoroso quello che è accaduto nelle ultime ore perché è saltato l'affare che avrebbe dovuto portare l'attaccante Iolvo dall'Ascoli ai Biancorossi a stoppare la trattativa è stato il patron del Teramo Luciano Campitelli intanto in pieno fermento il mercato in entrata in uscita Capitanio dovrebbe andare al Siracusa croce all'Andria mentre domani forte dovrebbero rientrare al Pescara vediamo il servizio in merito di Jacopo Forcella Teramo Iallo operazione saltata definitivamente e questa è la novità delle ultime ore in casa Biancorossa quando ormai l'affare sembrava essere già andato in porto l'operazione per portare in Biancorosso il centroavanti del Gambia via Ascoli ha infatti suscitato le proteste del tipo teramano ancora scottato dalla vicenda della mancata serie B accordata dalla giustizia sportiva proprio ai bianconeri marchigiani in mattinato l'ok delle parti in causa col giocatore assistito da Donato Di Campli pronto a raggiungere i nuovi compagni già al poggio degli olivi per l'amichevole col Pescara intanto sul web la protesta sale fin tanto da chiamare in causa lo stesso presidente Campitelli quindi ci sono dei tifosi che erano entusiasti e altri che erano arrabbiati però noi andiamo avanti per la nostra strada per il bene del Teramo non prendiamo il ragazzo perché pensiamo di di doverci dirottare su altre strade perché lui era un 96 e quindi era più un processo per un più a lungo periodo che a breve ma le trattative in casa Teramo non finiscono qua perché sabato mattina Pietro Baccolo firmerà il contratto che lo legherà al diavolo il centrocampista arriverà dal Catanzaro per rinforzare una mediana che ha riembarciato da poche ore Stefano Amadio che però è uscito claudicante dalla micchevole del pomeriggio la fortuna è che col campionato fermo l'ex latina potrà recuperare con calma dicevamo del mercato Filippo Capitanio è vicinissimo al passaggio alla Siracusa e per sostituirlo si pensa al ritorno in Abruzzo dell'ex chieti a Bellagiglia attualmente in forza alla Lupa Roma ma attenzione perché proprio nella giornata odierna potrebbe esserci il sorpasso di Riccardo Fissore del Fondi questione di ore anche l'addio di Antonio Croce vicino vicinissimo all'Andria per una separazione che forse libererà una casella che dovrà essere riempita quanto prima ma Croce ce l'ha chiesto mezza quindi papia insomma per riempita sicuramente appena chiuderemo chi dobbiamo chiudere Croce sul mercato altrimenti resta con noi Luca Forte nella giornata di domani tornerà a Peschiara il suo dalizio biancazzurro gli allungherà prima il contratto prima di girarlo in Serie B a Carpi Forte lo vogliono squadre importanti e quindi è giusto che vada in squadre più importanti e noi chiudiamo questa terza edizione del TG6 con il rugby perché ci sono grandi manovre all'Aquila in vista dell'incontro delle sei nazioni femminili tra Italia e Irlanda in programma il prossimo 12 febbraio intanto la delegazione del torneo ha fatto il sopralluogo allo stadio Fattori vediamo si scaldano i motori per la sfida tra la nazionale italiana femminile di rugby e l'Irlanda che animerà lo stadio Fattori all'Aquila al prossimo 12 febbraio con fischio d'inizio alle ore 14 l'incontro ricordiamo è valevole per la seconda giornata del Women's Six Nations 2017 in terra abruzzese è stato effettuato intanto un sopralluogo dello storico stadio Tommaso Fattori uno tra i templi della palla ovale in Italia visitato ieri mattina da Keane Binley e Ivan Cebenka del board del Six Nations accompagnati dai responsabili della Federazione Italiana Rugby per il settore femminile tra i quali Maria Cristina Tonna e accolti dai membri del comitato promotore dell'incontro i due rappresentanti della prestigiosa competizione internazionale hanno potuto visionare spogliatoi e spalti dello stadio effettuando così un sopralluogo tecnico in vista della partita cresce intanto l'attesa anche in città per l'importante evento l'ultima volta dei colori azzurri al fattori risale infatti al test match tra le nazionali under 18 di Italia e Francia del 24 gennaio del 2015 nei prossimi giorni prenderà il via anche la prevendita dei biglietti della partita Italia-Irlanda la prima volta l'Italia nazionale femminile all'Aquila le sue emozioni sicuramente le mie emozioni ripeto quelle normali nel momento in cui affrontiamo una partita del 6 nazioni si aggiunge appunto il fatto che giochiamo a casa mia quindi sicuramente sarà un valore aggiunto per quello che già normalmente è un grande evento quello del 6 nazioni e sappiamo che è una partita impegnativa con l'Irlanda non siamo mai riusciti a vincere contro di loro nel 6 nazioni però siamo fiduciosi anche che l'ambiente insomma possa contribuire ad innalzare la nostra prestazione siamo così giunti alla termine della terza edizione del TG6 grazie come sempre per essere stati in nostra compagnia vi ricordo prossimo appuntamento informativo domani alle 7 come sempre con Mattino 6 grazie di nuovo per averci seguito l'augurio di una serena notte di una serena notte grazie a tutti grazie a tutti